Benvenuti, siamo di nuovo sui Project Ares e questi sono quei server che sembrano, sembra tipo il gioco Bomberman, piazza TNT ti nascondi in dietro all'angolo. Muori 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 muori, bene, non muore, chissà perché. Ah no, ma sarò deficiente, è il mio compagno di squadra, ok ho ucciso quello, ho ucciso dive flag blu, allora, eh mi confondo è che prima stavo giocando con la squadra rossa e quindi mi sono confuso, muori 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 muori, eh no non è morto, è un problem, perfetto, così dalla velocità, ok ho ucciso un nemico ma anche mio compagno di squadra, ok è esploso, è un casino, è un casotto casino, perché continuo a dire casotto, tutto il giorno che dico casotto, vaffanculo, allora, no 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 TNT, eh si era nascosto, casotto, si può anche da qui cecchinare tutta la gente. eccolo, 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 ammazzato, però mi hanno ammazzato gli insette, via 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 via. Uccidiamo, uccidiamo, che uccidiamo? Aspettate, bevo la cosa della velocità e corro. No, ma non è anche bevuta. Perfetto. E piazzo in giro le mie TNT così posso uccidere qualcuno. no, 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 ok perfetto, mi serve copertura, via 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 via, ok qui. no, oh mio dio, un cuore, un cuoricino, un cuoricino, no, uh, che paura, pensavo che veniva da me. ma dove vanno quelli là? beh, ce n'è uno lì, li spunta a testa fuori. al mantello del minecon. minecon. ci sono andati in tanti e però per tanti hanno tutti il mantello. via 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 via. quindiCo. Sperta consumption. via via. seguirlo con Giovanni e la via. e quindi acholla fantastica tramite qualche bothering Complete Guettinale. Guardatelo come si nascondeva. No, mi ha ucciso. Comunque se siete curiosi e volete vedere le mie statistiche andate su oc.tc. slash grande scavatore e vedrete le mie uccisioni e quanti morti ho fatto. Non sono chissà cosa eh. Cioè non è che ho fatto mille uccisioni e un morto come farebbe Rambo. Beh Rambo farebbe zero morti ma va bene. Quindi sono buone, cioè scarse. Niente di che. Ok, ho piantato un casino di TNT. Vediamo chi uccidiamo. Ne abbiamo uccisi uno. Oh cacchio cacchio via 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 via. Ok, sono in fin di vita. Mela mela mela. Perfetto, perfetto. Oh via via, ma io di no. C'erano molte TNT, moolte TNT. E anche... Nooo, mi ha buttato giù un TNT, nooo. Mi ha buttato giù. No, ma che sto facendo login? Ma vaffanculo, mi sono confuso. Sono così abituato con gli Hunger Games che ormai devo fare sempre login. login, che faccio sempre login negli Hunger Games e quindi è stato un tic involontario. Aggiriamoli. Oh, prendiamo questo. Recicola. Oh, ho ucciso. No, perchè la TNT si avvicina sempre di più. Allora. No, qualcuno mi sta mirando. E sta facendo anche un ottimo lavoro. Guardate lassù. E' esploso. No, la TNT... Sette... Settez. Settez. Becces. Biacce. Swag. Biacce. Uh. Eh, beccati. Vi butto tutti giù, tutti. Nessuna eccezione. Tutti giù, guardate, tutti giù. Ah, andiamo lì che ci sono... C'è un po' di gente. Che non c'entra un bel niente. Ammazzato. Prima che piazzasse la TNT. No, no, mi ha ucciso la stessa TNT. No, che merda. Allora, ci sono... C'è gente che lassù sta volando. Non volando, sta... Sta andando molto in alto. Rifugiamoci qui. No. Si è fatto esplodere con la sua stessa TNT, penso. Ammazzo. Dai che sta per morire. Ho ucciso io. Eccellente. Subsid. No, no, è brutto quando ti ritrovi tra i tuoi piedi a TNT di un altro. Prendiamo la pozione della velocità. No. No. Ma quando ci metto a esplodere? Allora. Ok. No, non è morto nessuno per la mia TNT. Tutti usano a TNT che schifo. Esagerato. Nell'angolino, guardalo. Oh, oh, oh. Aia, 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 che male. 29 secondi, boys. Chissà cosa serve a mettere a TNT lì sopra. Eh, vediamo. Ok, esplodete. Bastardi. Eh, sì, non ha fatto nessuna uccisione. Guardate quanti morti. Boom, 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 boom. Perfetto, è finita. Alleluia. Adieu, fratelli.